Salve a tutti, vi invito a fare con me questo esercizio di rilassamento. Vi regalerà un momento di benessere e alla fine vi sentirete freschi e riposati. Dovrete semplicemente seguire la mia voce. L'esercizio si svolge in varie fasi. La prima fase è quella della dinamica muscolare, contrazione e rilascio. Quindi si ispira riempiendo bene i polmoni, trattenendo il respiro si rigidiscono, si contraggono tutti i muscoli del corpo, quindi le braccia, le addome, le gambe. Poi si ispira completamente lasciandosi completamente andare. La seconda fase consiste in alcune respirazioni profonde. Vi darò io il tempo contando da 1 a 3 per l'ispirazione e da 1 a 6 per l'espirazione. Poi seguirà il rilassamento profondo. Vi consiglio di sospendere l'audio e di prepararvi di creare la situazione ideale al rilassamento. Mettetevi abiti comodi, sdraiatevi senza scarpe sul letto, sul divano, in una stanza silenziosa con luci soffuse. Poi quando siete pronti, riattivate l'audio e seguite la mia voce. Adesso che siete rilassati, comodi e tranquilli, facciamo l'esercizio muscolare. Inspiriamo, riempiendo fino al punto i nostri polmoni, trattenendo il respiro, irrigidiamo tutti i muscoli del nostro corpo. Espiriamo e rilassiamo la muscolatura. Facciamo l'altra, due, tre volte. Inspiriamo, tratteniamo, irrigidendoci. Espiriamo e rilasciamo. Inspiriamo, tratteniamo, irrigidiamo i muscoli. Espiriamo e rilasciamo. Sentiamo bene la differenza della muscolatura quando è contratta e quando è rilassata. Espiriamo, trattenendo il respiro, irrigidiamo i muscoli. Espiriamo e rilasciamo. Muovete adesso un po' con i polsi e un po' con le caviglie. E rimettetevi tranquilli. Spostiamo ora la nostra attenzione verso il nostro respiro. E facciamo alcune respirazioni profonde. Espiriamo e rilasciamo. Espiriamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Espiriamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Espiriamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sentiamo ora tutto il nostro corpo, tranquillo. Spostiamo la nostra attenzione verso il nostro cuore. Sentiamo il battito nel nostro petto. E' lento e regolare. Fa pensare un po' a delle onde, delle onde leggere su un laghetto. Ascoltiamo il battito del nostro cuore e sentiamo queste onde che attraversano il nostro corpo, che si spandono attraverso il nostro corpo, tranquille. Spostiamo ora la nostra attenzione alla nostra nuca. E cerchiamo dentro la nostra nuca il battito del nostro cuore. Ascoltiamo, lento e regolare, come il nostro respiro. Sentiamo ora che una pesantezza piacevole si spande sulla nostra testa, sul nostro viso, sul nostro collo. Lì pervade il nostro collo, la nostra testa, le nostre spalle diventano pesanti, sempre più pesanti. Questa pesantezza piacevole si propaga e scende nel nostro braccio destro, che diventa sempre più pesante, sempre più pesante. Si distende e si propaga nel nostro braccio sinistro, che diventa sempre più pesante, sempre più pesante, sempre più pesante. Si propaga nel nostro braccio, si propaga nel nostro braccio, che sprofondano, diventando sempre più pesanti, sempre più pesanti, sempre più pesanti. Questa pesantezza, questa pesantezza scende nella coscia destra, nel polpaccio e nel piede destro. Tutta la nostra gamba sinistra, tutta la nostra gamba destra, adesso diventa sempre più pesante. sempre più pesante, sempre più pesante, sempre più pesante. sprofondiamo piacevolmente, siamo tranquilli, ci sentiamo bene, sereni e rilassati. sentiamo lontano dei rintocchi di una campana, ci incamminiamo sul prato, soleggiato di primavera, verso il suono di questa campana lontana. guardiamo intorno, ci godiamo il silenzio, il cinghettio degli uccellini, un ciliegio fiorito e respiriamo l'aria profumata. restiamo un po' qui a goderci questo momento di pace e di tranquillità al sole. la campana ricomincia a rintoccare e noi lentamente ci incamminiamo verso casa. adesso conterò fino a 8, all'8 aprirete gli occhi e fate un respiro profondo. uno due due tre quattro cinque sei sette otto aprite gli occhi e fate un bel respiro profondo. muoviamo lentamente le mani, i polsi, le caviglie. giriamoci su un fianco, in posizione fetale, stiamo un momentino così fermi e tranquilli. e poi lentamente alziamoci a sedere, mettiamoci a sedere. e possiamo alzarci e ricominciare la nostra giornata. spero che questo esercizio vi sia piaciuto e soprattutto che abbiate dei benefici. lo metto a disposizione della biblioteca di Concesio. io sono Nadia Tanghetti, sono naturopata abito a Zarezzo. se vi è piaciuto fatemelo sapere, ne preparerò altri con altre varianti. grazie, ciao a tutti. grazie, ciao a tutti.